Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo uno sondaggio del TG di La Sette di Enrico Mentana. La Lega sempre primo partito, mentre nel giro di una settimana il Movimento 5 Stelle perde lo 0,8%, passando dal 17,8 al 17. Tutti gli altri partiti sono in crescita. La Lega si conferma primo partito con il 21,3, guadagnando lo 0,4. Segue il PD con il 19,5, guadagna lo 0,5. Quindi Fratelli d'Italia che passa dal 18,7 al 19,1, guadagnando lo 0,4 e il suo record storico. Dopo Movimento 5 Stelle, Forza Italia è al 6,7, guadagna lo 0,1. Quindi azione e sinistra italiana, rispettivamente con 3,7 e 3,5%. Azione guadagna lo 0,2. Sinistra italiana, più 0,1%. Grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.